Jan Sommer, portiere dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, nella quale ha parlato della sua esperienza nel club nerazzurro e ha affrontato vari aspetti della sua carriera fino ad oggi. Il portiere svizzero si è fatto notare e sta conquistando la fiducia sia dei tecnici che dei tifosi, essendo un tassello fondamentale nella difesa della squadra. Ha parlato di alcuni punti importanti, tra cui il rendimento della squadra, le aspettative per il futuro e le sfide che l'Inter dovrà affrontare in questa stagione. Metti mi piace al video e iscriviti per altre notizie sull'Inter. Sommer ha indicato uno dei suoi compagni di squadra, Matteo Darmian, come esempio di efficienza all'interno del gruppo. Per lui Darmian è il tipo di giocatore sempre pronto ad aiutare e offrire una guida preziosa in campo. Questo tipo di atteggiamento contribuisce molto alla coesione della squadra e riflette la mentalità vincente che Inzaghi cerca di implementare in rosa. Parlando della stagione in corso, Sommer ha detto che, a differenza dell'anno scorso, l'Inter ora porta con sé la pressione di essere il campione in carica, il che cambia completamente la dinamica. Ha sottolineato che quest'anno la squadra deve fare ancora di più, perché gli avversari hanno fame di superarli e non si arrenderanno. Il portiere svizzero ha inoltre sottolineato che la chiave per mantenere un livello competitivo è combattere il rilassamento mentale che può sopraggiungere dopo le vittorie, sottolineando l'importanza di restare sempre carichi e di stimolarsi costantemente vicenda. Quanto alla difesa, Sommer è stato sincero nell'ammettere che l'Inter ha avuto qualche difficoltà nella marcatura preventiva, cioè nell'anticipare e neutralizzare le mosse avversarie prima che si sviluppino completamente. Ha affermato che è necessario che la squadra ritorni più compatta e organizzata, evitando spazi agli avversari. Interrogato sulle preoccupazioni relative all'età avanzata della difesa, Sommer è stato categorico nell'affermare che l'età non è un problema. Secondo lui tutti i difensori sono professionisti di altissimo livello e sono in ottima forma, smettendo l'idea che la difesa dell'Inter possa soffrirne. In vista della Champions League, Sommer ha dimostrato fiducia negli obiettivi dell'Inter, sia in campionato che nelle competizioni europee. È convinto che la squadra potrà arrivare lontano se manterrà il suo elevato standard di prestazione, il che sarà fondamentale per ottenere buoni risultati su entrambi i fronti. Per quanto riguarda la coppia d'attacco formata da Marcus Turam e Lautaro Martinez, Sommer non ha risparmiato gli elogi. Ha precisato che si tratta di una delle coppie che chiunque vorrebbe avere al proprio fianco e mai come avversari, sottolineando la forza offensiva dei due attaccanti. Sommer ha anche espresso la sua eccitazione per la prossima partita di Champions League, che si giocherà in Svizzera contro lo Young Boys. Per lui sarà un duello importante e la squadra dovrà essere molto ben preparata per ottenere un buon risultato. Parlando di mister Simone Inzaghi, Sommer ha elogiato la mentalità vincente del tecnico, affermando che Inzaghi fa di tutto per raggiungere la vittoria e spinge sempre la squadra ad Ari Massimo. Ha commentato anche l'influenza positiva di Inzaghi sulla sua evoluzione all'interno della squadra. Il portiere svizzero ha un contratto con l'Inter fino al 2026 e, interpellato sul futuro, ha chiarito di essere molto felice con il club e di voler concentrarsi sulle sfide attuali, senza pensare troppo al futuro. Ha elogiato anche il giovane portiere Martinez, che secondo lui ha un grande potenziale e si sta sviluppando bene. Sommer ha concluso l'intervista sottolineando quanto sia felice di essere stato nominato per il premio Yashin, che, per lui, è il riconoscimento del buon lavoro svolto. Ha anche espresso il suo sostegno a Lautaro Martinez, affermando che l'attaccante meritava di vincere il pallone d'oro, visto quanto è fondamentale per la squadra. Ora che avete ascoltato le parole di Jan Sommer, voi tifosi dell'Inter, cosa pensate delle prospettive della squadra per questa stagione? Lascia la tua opinione nei commenti e metti mi piace per altre novità dai nerazzurri. Forza Inter!